In aumento tra i giovani della nostra regione c'è il cyberbullismo. Se ne è parlato al Corecom Lazio i consigli degli esperti su come accorgersi del fenomeno e su come difendersi. Sentiamo Massimo Tinagli. Sensibilizzare ragazzi, genitori e docenti sui pericoli presenti sulla rete, ma anche formarli per dare loro gli strumenti per riconoscerli ed evitarli. È questo l'obiettivo cardine del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio. Un fenomeno in aumento esponenziale nella nostra regione che coinvolge molti giovani di fascia di età compresa tra gli 8 e i 18 anni. Tutti i ragazzi devono non cadere nella tentazione di, quando pensano di essere vittime di un fenomeno di cyberbullismo, la tentazione di chiudersi in se stessi. Bisogna parlarne con gli amici, bisogna parlarne con i genitori, bisogna parlare con i docenti. Poi dal punto di vista, mi lascio dire, un po' più tecnico, evitare di rispondere, mandare messaggi chiari e se il fenomeno continua, cambiare email, cambiare password, cambiare il numero di telefonino. Assume fondamentale importanza il ruolo della famiglia e delle istituzioni scolastiche. Monitorare l'attività dei ragazzi, cercare di capire se hanno dei problemi, come un buon genitore fa, vorrei dire, a tracione standard grati, e cercare di parlare con loro. Se hanno un sospetto, possono ricorrere a noi, possono ricorrere ai docenti. Da poco più di un anno, presso il Corecom Lazio, è attivo lo sportello web Reputation, in grado di rispondere a tutte quelle richieste di intervento relative alla comparsa di notizie, foto, video e commenti ritenuti offensivi alla propria dignità su blog, forum e social media. Segnalazioni che verranno valutate dallo stesso Corecom Lazio e comunicate al cittadino, che potrà rivolgersi alla polizia postale e delle comunicazioni. Grazie.